Il più possibile, malgrado tutto, evitando il documentario totalmente, però doveva esserci dentro ugualmente il sapore di improvvisazione, di realismo che il documentario riesce ad afferrare. Anche per una ragione, che ho girato con le folle che si vedono, le comparse, sono gli stessi che abitano in quelle strade dove io giro, dove io ho girato. E qui c'è un aneddoto curioso, per esempio i primi due giorni abbiamo utilizzato i vigili. Il territorio di produzione pensava che i vigili ci avrebbero aiutato a bloccare le strade così, perché non poteva passare la gente, perché comunque il costume era anni 40, non anni 80. Non si poteva girare perché, dice, un motore e uscivano le persone da lì, ci sono anche le persone in tutti i vicoli che abitano al pian terreno, che uscivano. Allora non capivamo, e allora loro a Napoli detestano l'autorità di chiunque, non vogliono sapere. Allora abbiamo provato, io e Marcello Mastroianni, prima di girare a passare dicendo, per favore, state in casa, possono uscire solo le persone che poi erano sempre del vicolo, del quartiere. E per favore state dentro così, eccetera. Ok, ha funzionato. Noi ci fermavamo a prendere il caffè dentro, perché ci invitavano sempre a prendere il caffè dentro, il caffè Napoli, il caffè dentro ai bassi napoletani, queste case che stanno sulla strada. Ed erano felici. A quel punto i vigili, abbiamo pregato i vigili di non farsi mai più vedere. Abbiamo potuto fare le riprese con la gente comune, col costume, l'altra stava dentro, bastava che dicessimo si gira, stavano dentro, uscivano e si muovevano quelle che dovevano, che in base alla regia dovevano uscire. La collaborazione a Napoli è così. O così o non si fa niente. Se eravamo antipatici non avremmo potuto girare. Ma loro, io penso, fossero più eccitati l'idea di Mastroianni, che era famosa. Ma comunque le cose sono andate così.